una buona serata a tutti voi soprattutto ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con angoli come sempre in apertura vi ricordo il nostro indirizzo di posta al quale potete scrivere per stare sempre in contatto con la nostra redazione bene come sempre angoli chiocciola espansionetv.it iniziamo la nostra serata insieme andando a conoscere gli ospiti che ci hanno raggiunti in studio do il benvenuto a Silvio Verga presidente di Asci Don Guanella ciao Silvio e grazie per essere qui nei nostri studi e insieme a te do il benvenuto a Simone Massa Pinto ciao Simone grazie anche a te per essere qui che ricordo responsabile della filiale di Como per Asci Don Guanella e missionario laico tu hai poi tutta una tua esperienza che insomma ci racconterai qui in studio di questo già ti ringrazio anticipatamente grazie a voi ma prima di conoscere nel dettaglio come abbiamo detto queste esperienze sul campo andiamo a comprendere insomma di cosa si tratta e soprattutto di cosa si occupa l'associazione Asci Don Guanella quindi do la parola a Silvio perché insomma tu ci apra a questo mondo del quale tu ti occupi Asci Don Guanella nasce nel 1992 è un'associazione che sulla scorta della partenza dei servi della carità dell'opera Don Guanella da qui di Como verso l'Africa attraverso amici di coloro che sono poi partiti come missionari hanno poi fondato l'associazione per dare una mano a questi missionari l'opera Don Guanella ha come carisma diciamo l'intervento in ambito del disagio grave e ha sviluppato poi in Africa ma anche nel resto del mondo centri che si occupano prevalentemente di diversa abilità mentale o fisica quindi sono 25 anni l'abbiamo visto lo stiamo vedendo anzi anche in questo contributo che il vostro impegno e la vostra presenza è forte e soprattutto determinante perché nei luoghi laddove insomma voi siete arrivati avete cercato davvero di essere molto presenti e di migliorare le condizioni come Silvio Tu raccontavi delle persone meno fortunate si generalmente il nostro affiancamento ha con fratelli ormai tutti africani con qualche salvo qualche eccezione in Africa sono africani in India sono indiani nelle Filippine sono filippini in Vietnam eccetera eccetera l'associazione interviene in tutti i continenti a partire dalle Americhe, Messico, Guatemala, Colombia e poi via via Cile, Argentina, Paraguay, Brasile, Argentina in Asia, in Vietnam, Filippine e India e in Africa, in Nigeria, Ghana, Repubblica Democratica del Congo ha anche degli interventi in Italia a Messina e qui a Como quindi non avete dimenticato insomma davvero nessuna delle zone del mondo più provate ma neppure in Italia insomma non fate mancare il vostro sostegno immagino che tutto questo richieda un grande impegno ma anche una grande disponibilità di fondi per cui se me lo consenti Silvio io vorrei già da ora ricordare a chi ci sta ascoltando che ovviamente è importante ma anche possibile concretamente interagire e supportare appunto l'Ascidonguanella siamo in un momento nel quale possiamo decidere anche affidare il nostro 5x1000 per cui chiederei anche alla regia di supportarmi in questo messaggio insomma questa è un'occasione e soprattutto da ciò che vi racconteremo in questo momento davvero un'occasione concreta per la quale c'è assoluta certezza insomma dell'applicazione soprattutto dei risultati perché lo stiamo vedendo sì noi ci occupiamo prevalentemente proprio del sostegno di quelli che sono i bisogni fondamentali quindi del cibo piuttosto che la vita quotidiana che può andare dal vestirsi a quello che è l'igiene personale a quello che è invece non so per il caso del Congo dove si occupa prevalentemente di sostegno di due realtà una dei minori che qualcuno ci è diventato anche maggiorenne in zona di Savana raccolti dalla strada dai servi della carità e poi accolti in questo centro sono minori con fragilità mentale mentre in città e nella capitale Kinshasa l'intervento è proprio con i minori di strada noi quindi diamo una mano in quello che sono il sostegno della vita quotidiana e delle attività formative e professionali che poi possono essere utili per loro una volta che cominciano il percorso dell'autonomia negli anni ci sono stati interventi per esempio in collaborazione con la cooperativa artigiani guanileani qui di Como che è una cooperativa sociale che occupa della costruzione di immobili su misura sono poi intervenuti e sono scesi i falegnami a insegnare l'arte della fabbricazione di immobili su misura e abbiamo poi creato una falegnameria giù lì a Kinshasa in altri luoghi per esempio in zone prevalentemente agricole ciò che si è cercato di fare è stato incrementare attività per la produzione per esempio del miele in Ghana in Ghana c'è una scuola professionale per ragazzi che non hanno l'accesso alle scuole per una questione economica e anche disabili che non hanno accesso alla scuola perché non possono andare e venire quindi c'è una scuola professionale che insegna dall'utilizzo del computer piuttosto che la tipografia o anche alla conservazione di alcune tradizioni come per esempio la produzione del kente che è un tessuto tipico del Ghana che adesso con la modernità è utilizzato quasi esclusivamente per cerimonie e attraverso dei telai artigianali che vengono costruiti in loco come anche per esempio gli ausili per le persone che vengono operate in caso di disabilità scarpe ortopediche che hanno appreso a costruire proprio sulla base di una formazione che è stata data in questo centro quindi di fatto un sostegno concreto anche per non solo essere d'aiuto ma di fatto trasmettere quegli insegnamenti necessari perché poi insomma possano portare avanti in maniera autonoma queste iniziative In altre nazioni invece l'intervento, sto pensando all'India, abbiamo circa 700 minori che vanno a scuola e mangiano una volta al giorno almeno lì nelle strutture in sette diocesi diverse dove i guanelliani locali hanno contribuito alla creazione di questo turnover di aiuti proprio per aiutare le popolazioni che non riuscivano a mandare i figli a scuola oppure avevano necessità alimentari che non potevano soddisfare ma siamo intervenuti anche in favore di altre realtà non so quando c'è stato in Nepal il terremoto siamo intervenuti con i gesuiti per la ricostruzione delle scuole quali sono stati i uragani o tifoni in India piuttosto che nelle Filippine ci si è concentrati su quello insomma diciamo che l'intervento dell'associazione è prettamente finalizzato l'intervento diretto con la popolazione attraverso la collaborazione con sacerdoti guanelliani che sono in loco e generalmente sono di quel paese Quindi attività molto importanti mentre stiamo chiacchierando vi ricordo la regia sta mandando anche in sovraimpressione un contatto con il quale eventualmente potete direttamente interagire con appunto l'associazione Asci Don Guanella ma vi ricordo ovviamente lo faremo ancora prima della conclusione della nostra chiacchierata la possibilità di sostenere direttamente con il 5 per 1000 quindi insomma stiamo vedendo anche dalle immagini che la regia ci manda le dimensioni, le realtà nelle quali c'è un intervento e una presenza importante ma a proposito di esperienze dirette voglio andare da Simone che ho presentato in apertura di puntata come ho detto responsabile della filiale di Como di Asci Don Guanella missionario laico tu hai una tua esperienza personale nella quale insomma hai prestato ovviamente la tua attività e che hai vissuto direttamente ce ne vuoi parlare? Sì, allora, buonasera a tutti questa esperienza nasce un po' nella notte dei tempi ovvero che prima di arrivare a partire come missionario laico per tre anni con la mia famiglia tutto questo nasce dalle esperienze giovanili che ho fatto quando avevo 20 anni dove ho avuto la possibilità di partire e osservare per un mese in piccoli campi di lavoro missionari e dopo aver fatto questa esperienza di un mese è rimasta un po' la voglia e l'innamoramento di continuare a sperimentare queste cose che avevo vissuto in questo mese in Mozambico quando avevo 20 anni la fortuna è stata che quando poi mi sono trovato e ho conosciuto mia moglie abbiamo voluto un po' concretizzare questa esperienza e questa esperienza un po' come percorso di fidanzatini ci ha portati per sei mesi a Kinshasa in una missione del Don Guanella dove in questi sei mesi abbiamo provato un po' a vivere come missionari nel quotidiano e nel concreto a contatto con le persone un po' che avevano bisogno quando siamo rientrati in Italia e ci siamo sposati la voglia ancora non era passata di ripartire e alla fine si è concretizzata nella prima esperienza in Peru con la diocesi di Milano dove si è partiti per un anno e poi per un tempo un po' più lungo appunto tre anni in Messico inviati appunto da Asci Don Guanella dove siamo partiti con Francesco e Noemi i miei due bambini siamo partiti per tre anni a Città del Messico dove abbiamo sviluppato un progetto sociale in un centro polivalente di Città del Messico in un quartiere di periferia di questa grande città nell'opera Don Guanella sono stati appunto tre anni a parte che sono volati dove come famiglia ci si è messi un po' a disposizione di quello che si doveva di quello che necessitava il posto è stato fatto un progetto sì, con l'appoggio di Asci Don Guanella che ci ha inviato e ha sostenuto economicamente e formativamente la nostra partenza è stato un progetto che comunque è autosostenibile nel senso che le finalità oltre che sociali sono state anche quelle di continuità del progetto tant'è vero che a distanza appunto ormai di due anni dal nostro rientro questo progetto sta continuando è stato un progetto sociale che si è rivolto alla popolazione del quartiere quindi dai bambini agli anziani piuttosto che alle mamme che sono le mamme solteras come si chiamano la città del Messico ovvero le mamme comunque che hanno avuto che hanno bambini e sono state lasciate quindi è un progetto che sta continuando e continua e questa è l'importanza insomma di questa attività di questi interventi che le cose inizino e poi vengano portate a fine siamo in chiusura perché il tempo vola quindi intanto voglio approfittare della tua esperienza per ricordare che è iniziata proprio per un grazie a un mese di volontariato quindi questa è un'altra possibilità importante potete mettervi in contatto ci sono sempre queste occasioni insomma per trascorrere utilizzare il nostro tempo a favore dell'associazione e poi ultima ma non ultima nuovamente la memoria che vi faccio insomma la possibilità di sostenere l'associazione con il 5 per 1000 bene io ringrazio Silvio Verga per essere stato qui con noi insieme a lui Simone Massapinto per il racconto della sua esperienza vi invito a tornare e a pensare che Angoli sia sempre a vostra disposizione per il sostegno della vostra attività davvero grazie buonasera a tutti bene ci fermiamo soltanto per qualche minuto tra poco Angoli torna grazie a tutti